Ora vi racconto una storia. C'era una volta in terra grecanica un piccolo villaggio chiamato Bronziacea. A capo di questo villaggio c'era il signor sindaco, un uomo dal cuore impavido e compassionevole, che non riusciva ad accettare in nessun modo ciò che stava accadendo alla sua gente. Il futuro, pensava il signor sindaco. Cosa posso fare io per creare un futuro sereno nel cuore del mio popolo? Un bel giorno prese tutte le forze a sua disposizione e con grande determinazione decise che quel posto non solo avrebbe coccolato l'animo dei pochi rimasti, ma avrebbe persino dato la possibilità di sognare e realizzare una vita piena di gioia anche a chi questa vita era stata negata. Musica 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 Mescolando razze, pensieri e colori come fosse una pozione magica o una sorta di alchimia, il signor sindaco costruì dunque la città futura. Nel mutpa!